buongiorno e grazie di esserci ok manterremo la promessa fatta oltre un mese fa diremo come questo giornale si schiererà prima del voto lo faremo in maniera abbastanza irrituale nel senso che adotteremo una sorta di teologia negativa una poetica dell'assenza parolona insomma la montale cioè diremo sostanzialmente quali sono le ragioni per non votare il candidato sindaco dei cinque stelle o per non votare pippo cavaliere infine per non votare landella cinque buone ragioni per votare no insomma magari così si manifesta la speranza da questa appunto poetica dell'assenza ma noi non ci vogliamo intristire pensiamo positivo allora partiamo appunto da quarato professionista famiglia importante di foggia candidato sindaco dei cinque stelle ok prima ragione non votarlo perché non ne possiamo più della retorica dell'ascolto della del mantra della partecipazione dei cittadini ci sono stati quattro anni cinque anni per ascoltare sti benedetti cittadini non ci si può ridurre alle ultime cinque sei settimane per poi maturare qualche pallida visione appunto della città invece andata così seconda regione governate molte città ok stiamo lontani naturalmente da roma meglio non dirlo però molti municipi sono di fatto governati dai cinque stelle e magari qualche buona pratica qualche efficace felice azione di governo si è anche appunto concretizzata ci abbiamo pensato noi dicendo che livorno al livorno c'è un project financing relativo alla pubblica illuminazione che merita naturalmente la massima attenzione che potrebbe essere appunto una traccia da sviluppare anche qui a foggia no nessuna idea come se i cinque stelle di foggia fossero solamente qui e foggia fosse una sorta di ombelico del mondo un laboratorio sperimentale di chissà che poi non è dato capire terza regione avete un governo avete un premier avete un premier che ha fatto saltare il tavolo alla fine dello scorso anno dicendo signori io per voi ho il cissi il contratto istituzionale di sviluppo una leva che può davvero rimettere in moto l'economia del territorio del capogluogo e di tutta la provincia insomma un premier vostro 7 8 parlamentari posti la politica si fa anche così dicendo guardate cari cittadini di foggia di cui 280 milioni che poi arriveranno si spera una parte importante per foggia per un progetto importante di foggia e quel progetto il nostro è la vostra medaglietta invece nulla ma torniamo a foggia quarta ragione ingegner 40 lei un professionista lì un ingegnere lei come dire anche nella debole interlocuzione con la pubblica amministrazione un'idea se la sarà fatta di che cos'è stata la stagione del mattone nel capoluogo di come soprattutto gli ultimi venti anni che dovevano in una qualche maniera creare condizioni per uno sviluppo più armonico coeso della città siano andati di fatto a ramengo perché in realtà hanno vinto i portatori di interesse gli imprenditori del mattone è poco la città la collettività che era destinataria di quelle misure di quelle contropartite nella cornice quante volte abbiamo detto dell'urbanistica contrattata ingegner quarato si sarà fatto una ragione per esempio ancora oggi di quei progetti del housing sociale che meritano e magari qualche parolina in più su quello su quei progetti che meritano servirebbe anche spenderla insomma un'idea se l'è fatta altrimenti vinceranno le male lingue che diranno di lei che è un pippo cavaliere in sedicesimi cioè uno che ambisce a recuperare tutti come dire gli incarichi e le consulenze possibili attraverso appunto un'interlocuzione diretta con la pubblica amministrazione e la tecnocrazia quinta e ultima ragione ok perfetto la proposta politico programmatica era abbastanza è stata abbastanza deboluccia slavata allora che fare magari costruire una narrazione diversa più incardinata su tante storie su una sommatoria di storie di biografie non solo quella del bravo ingegnere ma magari quella di altri che come dire in una qualche maniera davano il senso di una città nuova diversa di una città ricca anche di biografie singolari appunto non conosciute invece assolutamente nulla ecco le cinque ragioni ho fatto molta fatica credetemi a tirarle fuori grazie alla prossima